Ciao a tutti, in questo video vorrei dare un'immagine più geometrica della soluzione dell'equazione di secondo grado. Quindi, data un'equazione di secondo grado, ax quadro più bx più c uguale a zero, vorremmo cercare di risolverla e come abbiamo visto in uno dei miei video ci sono tre casi, delta maggiore di zero, delta uguale a zero, delta minore di zero. Adesso vorrei darvi un'immagine un po' più grafica, in modo che possiate capire perché in un caso ci sono due soluzioni, nell'altro due coincidenti e nell'altro non ce n'è. Potremmo interpretare questa equazione come risolvere un sistema di due equazioni. Sapete che un sistema di due equazioni ci devono essere due incognite, quindi la prima è ax quadro più bx più c e y uguale a zero. Risolvere questa è equivalente a risolvere questo sistema. Possiamo interpretare questo sistema come l'intersezione di una retta, che non è altro che l'equazione dell'asse x, e una parabola. Quindi trovare le soluzioni di un'equazione di secondo grado è cui vale a trovare le intersezioni dell'asse x con una certa parabola. E vediamo che adesso diventa più chiaro perché nei tre casi abbiamo tre situazioni diverse. Quando il delta è maggiore di zero abbiamo visto che ci sono due soluzioni. Questo corrisponde al fatto che disegnando questa parabola e questa retta abbiamo che una retta è questa, l'asse x, e l'altra è la parabola. Il caso delta maggiore di zero corrisponde ad avere una parabola che interseca l'asse x in due punti. Per esempio nel video in cui abbiamo studiato quest'equazione abbiamo visto che le due soluzioni erano due e tre. Questo corrisponde al fatto che questa parabola interseca l'asse x nei punti due e tre. Nel caso delta uguale a zero, che avevamo visto in un altro video corrispondeva a quest'equazione, per esempio, avevamo visto che l'unica soluzione con molteplicità 2 oppure le due soluzioni coincidenti erano 5 e 5. Sembra un gioco di parole ma è effettivamente così. Graficamente questo significa che la parabola tocca l'asse x in due punti che coincidono che nel nostro caso era il punto 5. Nel terzo caso, che avevamo studiato nell'equazione x quadro più x più 1 uguale a zero, il delta era negativo e questo corrisponde al fatto che non ci sono soluzioni. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che, in questo caso, la parabola è tutta sopra l'asse x. Quindi sarà, disegno a caso, non importa dove sia, per esempio qui. Quindi vediamo che passando da maggiore a minore, una parabola fatta così sale. Questa è l'immagine che potete avere in mente quando cercate di giustificare perché in questi tre casi abbiamo 2, 1 e 0 soluzioni. Se vi è piaciuto il video, pollice in su, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati e alla prossima!